Il referendum per la Lombardia che è stato indetto a febbraio dello scorso anno dal Consiglio regionale abbiamo approvato definitivamente oggi il regolamento, la novità è per la prima volta il referendum viene gestito con modalità elettronica per l'espressione del voto, per le operazioni di scrutinio e per la trasmissione dei risultati, un test che facciamo e che può avere una rilevanza anche a livello nazionale ho incontrato il Ministro Orfano per definire gli ultimi dettagli, siamo ancora in attesa di definire con lui la data io insisto perché ci sia l'abbinamento con le elezioni amministrative di giugno, 12 giugno non ho ancora avuto conferma per questo da parte del Ministero che ci consentirebbe tra l'altro di risparmiare 12 milioni di euro nella gestione e nell'organizzazione del referendum quindi non vedo francamente controindicazioni attendo che si definiscano alcuni dettagli tecnici fra dieci giorni incontrerò di nuovo il Ministro, incontrerò anche il Presidente Renzi per definire la questione dell'ingresso del governo nella società Arexpo il dopo Expo, il fast Expo, il fast Post e anche per chiudere la partita sulla data del referendum che si farà quindi il 18 febbraio saprò qual è la posizione del governo mi auguro che consenta l'abbinamento con le elezioni amministrative proprio per consentire anche a noi un risparmio di risorse ma la parola definitiva l'avrò il 18 febbraio il 18 febbraio ci saranno ancora i tempi tecnici naturalmente per organizzarlo per il 12 giugno e eventualmente per il 29 maggio data in cui si celebra la festa della Lombardia come sapete è una domenica quindi in alternativa se non ci sarà possibile l'abbinamento come avevo già annunciato lo anticiperemo il 29 di maggio ma il 18 febbraio saprò qual è la risposta del governo bene abbiamo concluso lascia questa slide che il referendum è importante abbiamo concluso se ci sono domande grazie a tutti grazie a tutti